Qua è la casa di mio padre dove vivo vicino a Ivrea c'è una targa c'è una targa che rappresenta un disegno di Guareschi si intitola Controvento e ogni volta che la guardo penso che è proprio Controvento che siamo andati tutti questi anni ed è con la determinazione che abbiamo avuto che siamo riusciti ad arrivare fino qua proprio dalla casa di cui vi raccontavo prima spesso vedo nella valle e all'imbocco della Val d'Aosta spesso vedo nella valle un tappeto di nebbia e quando vedo questo tappeto di nebbia e sopra le montagne assolate penso che possiamo scegliere possiamo scegliere se la nebbia la nebbia che copre gli orizzonti la nebbia dei piccoli passi la nebbia senza brezza la nebbia dei pensieri corti impregionati oppure il sole con la brezza, con gli orizzonti lunghi con l'immaginazione e penso che noi abbiamo la scelta oggi se la nebbia o il sole e dipenderà da quanto vogliamo alti quando guardo quella targa davanti a casa che si intitola Controvento penso che sia proprio Controvento che si decolla il 4 marzo vicino corriamo Controvento e iniziamo a vorrare alto un palloncino un pensiero grazie a tutti grazie a tutti